mister astelli è un buon pareggio quello di alessandria un ottimo pareggio abbiamo fatto una grande partita siamo stati un pizzico sfortunati un pizzico poco bravi per portare a casa l'intera posta in un campo difficile contro una squadra esperta di categoria per cui abbiamo fatto ancora un passo in avanti su quello che è il nostro percorso per cui sono molto soddisfatto è normale che dobbiamo pretendere ancora di più però è normale in questo momento essere questa squadra che sta sempre di più crescendo domenica dopo domenica inizia ad amalgamarsi bene questa squadra che è cambiata tanto insomma 16 nuovi acquisti su 25 effettivi ma io l'ho sempre detto questa squadra è un gruppo di lavoro eccezionale lavorano tutti è normale che ci siano difficoltà all'inizio quando una squadra cambia tantissimo non è così facile togliere una casella e mettere un'altra e tutto rimane uguale io credo che le squadre vanno formate con il tempo specialmente quando sono giovani oppure vengono da categoria o settore giovanile o categorie ancora più basse buon segnale il fatto che pur avendo ancora ampi margini di miglioramento questa squadra abbia già trovato una certa continuità di risultati insomma tre vittorie un pareggio nelle ultime cinque partite non male ma io sono contento forse sono di pochi contenti qui perché tutti si aspettano di più tutti aspettano velocemente grandissimi risultati ma io credo che questa squadra qui abbia delle potenzialità in un campionato difficilissimo dove ci sono anche gli altri tutti facciamo i conti con solo su noi ma ci sono gli altri gli altri sono forse anche più pronti di noi perché hanno squadre più esperte squadre più fatte con spendendo anche tantissimi soldi per cui io sono contento di questa squadra sono contento di come stanno lavorando e sono convinto che abbiamo margini di miglioramento perché è una squadra che lavora tantissimo cosa può portare in più luca bertoni a questa squadra luca che ormai prossimo al rientro ma luca lo conoscete meglio voi che io è un giocatore che sotto l'aspetto delle geometrie ci può dare tantissimo possesso palla qualità delle delle giocate per cui è un giocatore che noi aspettiamo con quasi con ansia perché ci tra qualcosa in più che in questo momento non abbiamo ma che abbiamo cercato di trovare con altri tipi di giocatori e credo che lo stanno facendo molto bene adesso qualcuno dice calendario in discesa per il sutilo dopo un inizio difficile ma solo perché si affrontano renate real vicenza vicenza è secondo in classifica una grande ha giocatori di categoria come bruno come dalla buona per cui credo che chi pensi così ancora non abbia capito che tipo di campionato è che ogni partita sarà una lotta e ogni partita ci sarà difficoltà nuove incontreremo renate dopo una partita di coppa italia con due giorni solo di preparazione per cui sarà una partita difficilissima non sarà facile perché renate una squadra scorbutica una squadra che gioca un buon calcio al di là dei punti che ha fatto cercheremo di trarre nel massimo come abbiamo sempre fatto ma non è semplice annes fink sempre meglio adesso ti abbiamo scoperto anche specialista dei calci di punizione dopo un gol non penso che sono un specialista però le provo un po in allenamento da un po di tempo e ieri è andata molto bene ieri anche prestazione tua davvero di altissimo livello il migliore in campo nel contesto di una partita che avete giocato anche bene e penso sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario che ha dimostrato di avere tante qualità però insomma noi abbiamo dimostrato di avere personalità abbiamo giocato la partita a viso aperto provando di giocare palla a terra facendo le nostre azioni secondo me abbiamo fatto un'ottima partita anche se magari abbiamo sbagliato a qualche occasione l'ultimo passaggio il tiro in porta dove magari potevamo far meglio peccato per il finale in superiorità numerica nel quale non siete riusciti a far valere l'uomo in più si poteva anche vincere forse sì penso che le occasioni ne abbiamo avuti a forse anche prima quando erano ancora in 11 poi quando sono rimasti in 10 sono chiusi tutti dietro e a noi magari ci è mancato sto ultimo passaggio o magari l'azione che ti poteva far vincere la partita